Rilevati 221 sinistri stradali in ambito urbano, questo è il bilancio degli interventi eseguiti dai poliziotti delle volanti nel capologo Nisseno e nelle città di Gela e Niscemi, nell'arco di tempo che va da gennaio a ottobre di quest'anno, nel corso dei servizi di controllo del territorio. Un dato che fa riferimento ad incidenti che hanno coinvolto persone e mezzi e che, anche se ancora manca un mese e mezzo alla fine dell'anno, al momento è leggermente inferiore rispetto a quello dell'intero 2021 pari a 281. In ogni caso bisogna anche tenere conto del fatto che il numero indicato dei sinistri avvenuti nelle strade cittadine riguarda soltanto quelli rilevati dalla Polizia di Stato, un bilancio quindi che sicuramente tende ad aumentare, aggiungendo anche quelli che hanno visto l'intervento delle altre forze di polizia. Tirare le somme serve anche ad analizzare e monitorare la situazione, così come si legge sui social della questura Nissena, ci mostra quanto siano pericolose le strade delle nostre città se non si guida con prudenza. La prevenzione infatti anche in questo caso assume un ruolo decisivo nella possibilità di diminuire il rischio di incidenti. Per tale motivo vengono dati anche dei consigli agli automobilisti sui corretti comportamenti da seguire al volante. La Polizia di Stato raccomanda quindi prudenza alla guida, si precisa ancora, rispetto dei limiti di velocità e attenzione alla segnaletica urbana, specie nelle intersezioni, nei passaggi pedonali e in prossimità di scuole, ospedali e uffici pubblici.